Alleanza tra la famiglia Rina e il clan dei Casalesi per la distribuzione di frutta e verdura confisca da 1.800.000 euro ad un imprenditore di Marsala. Vertenza Alma Viva martedì prossimo al Via e trasferimenti da Palermo a Rende. Sabato e domenica a Bagheria la settima edizione della mostra ornitologica internazionale della Conca d'Oro. Buonasera, ben trovati all'edizione di Media News di giovedì 3 novembre. Alleanza tra la famiglia Rina e il clan dei Casalesi per la distribuzione di frutta e verdura, la DIA ha confiscato beni per 1.800.000 euro ad un imprenditore di Marsala. Confiscato parte del patrimonio immobiliare societario riconducibile a Carmelo Gagliano, 50enne marsalese, imprenditore nel settore dei trasporti. La proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata avanzata dal direttore della DIA ed accolta dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione. A Gagliano è stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale per la durata di tre anni. Carmelo Gagliano ha sempre svolto l'attività di autotrasportatore, nessuna condanna per fatti di mafia, ma era il prestanome della società di trasporti AFM Autofrigo Marsala, società cooperativa, nella quale vantava con partecipazioni l'esponente mafioso marsalese Ignazio Miceli. La società di trasporti è stata al centro di una vasta inchiesta giudiziaria condotta dalla DDA partenopea sulle infiltrazioni mafiose nel circuito della grande distribuzione ortofrutticola dell'agropontino. Le indagini hanno consentito di scoprire all'interno del mercato ortofrutticolo di fondi, uno dei principali in Italia, l'esistenza di una spartizione degli affari da parte delle organizzazioni malavitose presenti e di una monopolizzazione del settore dei trasporti su gomma del can de Casalesi, che aveva stretto una vera e propria alleanza con emissari imprenditoriali di Cosa Nostra, siciliana, facenti capo a Gaetano Riina, fratello di Totò, da anni residente nella provincia trapanese. Beneficiaria principale sarebbe stata appunto l'impresa gestita da Ignazio Miceli e Carmelo Gagliano. Tre beni confiscati risultano terreni, fabbricati, l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della società LGF Trasporti SRL con sede a Mazzara del Vallo, veicoli e rapporti bancari per un valore di oltre 1 milione e 800 mila euro. Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno individuato e arrestato i responsabili di una rapina ad un tir. Il carico rubato era destinato ad un fiancheggiatore dell'attitante, Matteo Messina Denaro. Vediamo. Sono ritenuti i responsabili della rapina di un tir carico di pesce congelato del valore di circa 100 mila euro e del sequestro dell'autista avvenuto nell'aprile dello scorso anno al porto di Palermo. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Palermo hanno arrestato Vincenzo Napoli, Bartolome Anzalone e Giovanni Domenico Scimonelli. I primi due pluri pregiudicati con precedenti specifici per rapina, ritenuti contigui alla criminalità organizzata del capoluogo, sono stati ammanettati a Palermo. A Scimonelli, arrestato all'estate del 2015, in quanto ritenuto fiancheggiatore e bancomat del latitante Matteo Messina Denaro, il provvedimento è stato invece notificato in carcere. Attraverso lo sviluppo di convergenti elementi investigativi, il legico del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo e le squadre mobili di Palermo e Trapani, sotto il coordinamento della locale DDA, hanno ricostruito l'intera vicenda, accertando che due derrapinatori, dopo aver immobilizzato il conducente, erano diretti a Trapani, dove Scimonelli era pronto a ricevere e a piazzare sul mercato l'ingente partita di pesce. Un casuale posto di controllo delle forze di polizia all'altezza di Balestrate ha indotto alla fuga i rapinatori che, abbandonando quindi l'autista rinchiuso nella cabina, l'intero auto articolato e il carico facendo perdere le loro tracce nei campi adiacenti l'autostrada. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto nelle campagne tra Villa Abate e Ciaculli a Palermo all'interno di un furgone. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un pregiudicato che però non avrebbe collegamenti con la criminalità organizzata. E' ancora giallo sul ritrovamento di un uomo trovato carbonizzato nelle campagne tra Villa Abate e Ciaculli a Palermo. L'uomo è stato trovato dai militari nelle scorse ore a bordo di un furgone Fiat Fiorino. Dai primi accertamenti fatti sul mezzo, i carabinieri del nucleo investigativo sarebbero riusciti a risalire l'identità dell'uomo che sembrerebbe essere un pregiudicato che non risulterebbe avere collegamenti con la criminalità organizzata. Sul posto, oltre ai militari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il sostituto procuratore della DDA, Sergio De Montis, assieme al pubblico ministero di turno Claudia Bevilacqua. Al momento sono ancora in corso le indagini e non si esclude alcuna pista, tra le ipotesi anche quella di omicidio. Inoltre non ci sarebbero denunce di scomparse presentate nei comuni della zona alle forze dell'ordine. Il cadavere è stato trovato dentro il furgone che era parcheggiato lungo un sentiero nella zona del cimitero di Villa Abate. Parliamo dell'avvertenza Almaviva, martedì prossimo al Via e trasferimenti da Palermo a Rende. Domani nuovo vertice a Palazzo delle Aquile. In programma c'è anche una fiaccolata di tutti gli operatori del call center. Ormai manca pochissimo tempo. Martedì prossimo saranno attivati i trasferimenti degli operatori di Almaviva Contact da Palermo a Rende in Calabria. I primi 154 lavoratori sui 398 interessati hanno già ricevuto la comunicazione ufficiale. A quanto pare a nulla sono serviti gli inviti del vice ministro per lo sviluppo economico Teresa Bellanova e dell'amministrazione comunale di Palermo perché l'azienda ha ribadito di non poter procedere in altro modo. Non c'è più tempo per le parole, dice il sindacato SLCCGL Palermo. I lavoratori di Almaviva sono ormai con la pistola puntata alla tempia. Mancano pochissimi giorni e saranno trasferiti. Saranno sradicati dalle loro famiglie e portati in Calabria con un'azione unilaterale insensata. L'SLC lancia dunque il suo allarme alle istituzioni e all'isola. Non ha senso continuare così, chiediamo una convocazione urgente al governo. È ora di attuare gli impegni presi sia ai tavoli sia al MISE. I lavoratori Almaviva Palermo sono disperati perché non sanno come affrontare questo trasferimento disastroso per le loro vite. Al governo si chiede quindi di non perdere più un minuto di tempo e dare le risposte attese da tempo per garantire il settore e all'azienda di stoppare i trasferimenti e le chiusure dei siti di Roma e Napoli. Per domani alle 11 a Palazzo delle Aquile il sindacato ha organizzato inoltre una riunione per coinvolgere la città. E in programma c'è anche una fiaccolata di tutti gli operatori del call center. Una gara unica per l'acquisto di farmaci degli ospedali. L'obiettivo per la regione siciliana è un risparmio di 200 milioni all'anno. L'obiettivo è 200 milioni di euro di risparmio l'anno. Sarà il frutto del più grande appalto di fornitura di medicinali bandito alla Sicilia e per la prima volta la gara di acquisto di Lazionata sarà espletata a Roma. La gara unica per l'acquisto di farmaci riguarda le nuove asp dell'isola, le aziende sanitarie, tra istituti di ricerca, il Bonino Puleio di Messina, l'ISMET di Palermo e l'OASI di Troina. I farmaci acquistati non saranno forniti subito ma nell'arco degli anni, secondo le quote stabilite di volta in volta. I lotti di fornitura sono infatti 2.530, uno per ciascun tipo di farmaco richiesto. Per poter bandire la gara è stata effettuata una valutazione dei consumi farmacologici. Esiste il rischio quindi che i consumi potrebbero essere inferiori rispetto al passato, quindi con spreco per alcune categorie farmaceutiche o superiori per altre. In questo caso gli ospedali si potrebbero trovare senza farmaci necessari e sarebbero costrette ad acquistare partite aggiuntive. In ogni caso la gara verrà assegnata con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Con l'aggiudicazione il risparmio potrebbe essere persino più consistente. Con la gara unica gestita da Consip a livello nazionale si applica in pieno la nuova normativa. La reale efficacia la si potrà valutare soltanto tra 4 anni, quando si potrà fare un bilancio di eventuali sprechi o acquisti aggiuntivi con i relativi costi. Passante ferroviario di Palermo, ieri vertice in prefettura, deciso lo stop alla mobilità dei lavoratori ma il braccio di ferro con rete ferroviaria italiana continua. Il sindaco di Palermo, Leluco Orlando e il vice sindaco Emilio Arcuri hanno preso parte ieri pomeriggio al tavolo convocato presso la prefettura per affrontare la situazione dei lavori del passante ferroviario, opera appaltata da rete ferroviaria italiana e in corso di realizzazione ad opera della società SIS. Il sindaco ha sottolineato come ulteriori ritardi, ancora di più un'eventuale sospensione dei lavori rappresentino un danno incalcolabile per la città, per la sua immagine e per la mobilità complessiva e la vivibilità delle aree interessate dai cantieri. Nel chiedere quindi a RFI e SIS un ulteriore approfondimento perché questi scenari siano scongiurati e si proseguono nell'esecuzione dei lavori, Orlando ha inoltre espresso l'importanza di mantenere i livelli occupazionali adeguati. Si è deciso dunque di procedere al congelamento della mobilità già stabilita dall'azienda con il mantenimento dei livelli occupazionali già concordati. Orlando e Arcuri hanno anche incontrato una delegazione delle rappresentanze sindacali, cui hanno descritto gli esiti della riunione, ribadendo ancora una volta che l'amministrazione comunale segue e continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda. Secondo fonti sindacali, inoltre nel corso della riunione, RFI avrebbe anche avanzato una sorta di ultimatum nei confronti dell'impresa. Entro il 14 novembre i lavori dovranno ripartire a pieno regime e non si dovranno più verificare ritardi. Se ciò non avverrà, RFI procederà con la rescissione del contratto in danno, con tutte le conseguenze per la SIS, ma anche per la conclusione dei lavori che in questo modo rischierebbe di slittare di circa due anni. PRG e abusivismo edilizio a Bagheria. Il segretario del PD, Ignazio Amenta, lancia un appello al sindaco Patrizio Cinque affinché faccia chiarezza e soprattutto non crei conflitti di interesse. Bagheria sta attraversando un momento storico molto difficile dove per spinta della procura di termine di Palermo si stanno affrontando e definendo 4.500 pratiche di sanatoria e 600 pratiche di demolizione edilizia. Questo procedimento è un procedimento che va fatto con assoluta trasparenza e chiarezza da parte di tutte le parti coinvolte a cominciare dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale non può essere parte in causa. Purtroppo dalle inchieste giornalistiche delle Iene e di Repubblica è venuto fuori invece che l'amministrazione comunale, suoi esponenti e familiari sono parte in causa perché purtroppo hanno degli immobili abusivi. Quindi in questo senso non possiamo e non capiamo cosa significa riorganizzare gli uffici, cosa significa spostare un responsabile da un ufficio all'altro. È come se quando ci sono due squadre in campo una squadra decide di cambiare l'arbitro. Secondo noi c'è un chiaro conflitto di interesse. Il sindaco ha sbagliato a tenere per sé la delega all'urbanistica e in questo senso chiediamo che appunto si ristabilisca chiarezza su un tema così delicato perché quando si faranno le demolizioni, quando si faranno le acquisizioni, diciamo il sindaco e l'amministrazione deve essere super partes, non può essere parte in causa. Il comitato Esistono i diritti invia una lettera al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, affinché faccia aderire il comune alla marcia per l'amnistia, la giustizia e la libertà che si svolgerà a Roma in occasione del giubileo dei carcerati. Il comitato Esistono i diritti ha rivolto una lettera al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, tutta l'amministrazione comunale per far partecipare alle istituzioni alla marcia per l'amnistia, la libertà e la giustizia che si terrà a Roma in occasione del giubileo dei carcerati in programma domenica 6 novembre. È una straordinaria mobilitazione per ribadire la necessità di un'amnistia affinché le nostre istituzioni carcerarie possano fuoriuscire dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, recita la lettera, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese. Il comitato ha fatto sapere di aver denunciato la drammatica condizione carceraria nella regione siciliana, chiamando in caso il presidente Crocetta. La crisi della giustizia pone in grave pericolo l'esistenza dello Stato di diritto come ammonisce da tempo il Consiglio d'Europa attraverso le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il comitato presieduto da Chetano D'Amico considera rilevante far giungere un segnale forte di legalità e rispetto dei diritti umani e civili da una città come Palermo che è tra quelle che maggiormente si è impegnata per questi obiettivi. Elezioni amministrative 2016 da Altavilla Milica, Pino Virga della lista civica Io amo Altavilla ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco. Un grande cuore formato dalle tessere di un puzzle e la dichiarazione Io amo Altavilla rappresenterà la coalizione a sostegno della mia candidatura a sindaco. Lo afferma Pino Virga della lista civica Io amo Altavilla presentando ufficialmente la propria candidatura a sindaco della cittadina in previsione delle prossime elezioni amministrative. Ho deciso infatti, aggiunge Virga, di confermare la disponibilità del mio impegno al servizio della nostra comunità con lo spirito di sempre nuovo e rinnovato entusiasmo e con una straordinaria platea di donne e uomini al mio fianco in perfetto equilibrio di genere. Nei prossimi giorni, aggiunto il candidato sindaco, avrò il privilegio di presentare ufficialmente le sei ragazze e i sei ragazzi che con me condividono l'ambizioso progetto del rilancio sociale e culturale del nostro paese, drammaticamente sprofondato in un immeritato stato di decadimento. Sarà l'occasione per conoscere le linee guida del programma elettorale e raccogliere la testimonianza del nostro impegno per Altavilla. Ieri, nel giorno dei morti, una delegazione del PD di Bagheria si è recata al cimitero per rendere omaggio ai tanti personaggi politici scomparsi che hanno segnato la storia della città. Lo facciamo perché tendiamo alla memoria. Alla fine, come Partito Democratico, che tra l'altro ha una storia, diciamo, recente, ma è frutto di una storia molto più lunga, la storia del PC, del Partito Popolare, che poi si sono messi insieme e hanno fatto il Partito Democratico, allora noi pensiamo che sia fondamentale, proprio alla luce di questo momento di antipolitica, dove tutto il passato è sempre... e viene consigliato del male, dove quasi ci siamo dimenticati di personaggi, di uomini e di donne che nella militanza dei partiti, ma questo vale anche per l'ADC, vale anche per altri partiti, hanno dato un grande contributo alla storia nostra di Bagheria e non solo. Se pensiamo, per esempio, appunto all'onorevole Peppino Speciale, è stato anche deputato della Repubblica. Siamo andati anche, per esempio, da alcuni ex segretari del partito, tra questi, per esempio, Angelino Gargano, e poi anche dai militanti, se pensiamo a Silvestre Scardina, sullo verso, se pensiamo a Vincenzo Bartolomeu Cappellano, cioè il PC di allora e i partiti di allora erano fatti, erano partiti trasversali, che mettevano insieme il giornalista, il medico e l'operaio, il contadino, l'agricoltore. Allora, penso sia fondamentale, oggi che è un giorno anche importante, sia per la memoria, diciamo, religiosa, per chi crede, ma anche per la memoria civica. Ecco, è fondamentale la memoria, il ricordo costante, perenne, perché è solo da lì che possiamo riuscire e realmente ad essere anche una classe dirigente migliore rispetto a quella che siamo. PD è l'esempio di due storie che si uniscono, una storia più moderata, più popolare, appunto poi a Bagheria rappresentata come defunto da Andrea Zangare, e poi invece la storia della militanza, la storia un po' più radicale, quella del PC. Cioè, così come nell'ADC, così come anche in altri partiti, anche un po' più, diciamo, di destra, noi abbiamo esempi di onestà. Università di Palermo e AIRC insieme contro il cancro. Stamattina incontro a Palazzo Steri tra i protagonisti del mondo della ricerca e gli studenti per parlare dei progressi dell'oncologia. Si è svolto stamattina l'incontro fra protagonisti del mondo della ricerca sul cancro e gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo delle discipline scientifiche, portando loro progressi dell'oncologia e storie di chi, nella ricerca, ha fatto una professione. Il dibattito si è svolto presso la sala magna dell'erettorato dell'Università a Palazzo Steri grazie all'iniziativa dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che promuove questi incontri. Presenti in sala dei ricercatori delle varie università italiane con il biologo e autore televisivo Giovanni Corrada, oltre che l'erettore Fabrizio Micari. I docenti hanno parlato prevalentemente dei casi di cancro, oltre mille ogni anno, e che buona parte di questi tumori vengono curati grazie ai risultati della migliore ricerca oncologica. Storie professionali di vita, di speranze e di passione, raccontate agli studenti dagli stessi protagonisti, ricercatori affermati che hanno parlato del cancro e delle ultime scoperte, giovani ricercatori che hanno spiegato da dove nasce la passione per il loro lavoro. Alcune persone, inoltre, che hanno superato la malattia, hanno testimoniato i progressi della ricerca. Dopo il successo della prima e seconda edizione, ritorna il premio Sicilia letteraria, rivolto a poeti e scrittori emergenti, e non solo. Ascoltiamo il promotore dell'iniziativa, Rosario Giacchi. Dopo il successo delle prime due edizioni, ci è sembrato giusto e doveroso continuare su questa scia. Esperienza unica. Prima edizione, iniziata quasi per gioco, anche se nasce tutto dall'idea di un grosso critico letterario italiano, che è la dottoressa Paola Mazza. L'abbiamo portato avanti, ho contribuito nella mia location, che è un ristorante su Villa Grazia di Carini. Abbiamo iniziato questa avventura quasi per gioco, abbiamo costituito questo polo letterario. Dicevo, la prima è andata già bene, abbiamo avuto prose che sono pervenute da tutta la Sicilia. Nella seconda ci siamo migliorati in qualità, nel senso che abbiamo avuto il prestigio di avere nella serata conclusiva personaggi del calibro di Lando Buzanca, al quale abbiamo consegnato anche una targa alla sua carriera. Figlio Massimiliano, che è un ottimo attore di prosa. La giunta comunale, a capo il sindaco di Carini, ha preso a cuore e ci ha aiutato in questa avventura. E quindi abbiamo portato a termine una seconda edizione con risultati davvero ottimi. Sono usciti dei grandi lavori fuori. Quindi ora abbiamo parecchio materiale, già c'è pervenuto di scrittori e questa volta, ti devo dire, anche fuori dalla Sicilia. Quindi già ci stiamo adoperando per portare avanti e definire questa terza edizione del premio Sicilia letteraria. Lo spirito è quello di dare voce a chi questa voce non ha, in pratica. Abbiamo visto, abbiamo notato che ci sono parecchi talenti nascosti e la Sicilia ne è una grande diciamo madre in questo. Ha tutti questi talenti nascosti che spesso in campo letterario, forse ognuno di noi scrive e mette nel cassetto. Non ha avuto mai l'opportunità di portare a fare visionare il proprio manoscritto. I lavori ne sono arrivati tanti e molto belli che meritano veramente molto di più. Noi stiamo cercando di dare voce tramite il concorso Sicilia letteraria a questi talenti emergenti. Sabato e domenica prossimi a Bagheria presso i magazzini Ex SACOS appuntamento con la settima edizione della mostra ornitologica internazionale della Conca d'Oro organizzata dall'Associazione Ornitologica Trinacria Onlus con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'Associazione Ornitologica Trinacria con la collaborazione della locale Associazione Bagherese ormai ci ha abituato a questo appuntamento che è un appuntamento mondiale perché voglio ricordare che questa che si svolge qui è una mostra ornitologica internazionale dove sono esposti soggetti provenienti da più nazioni non sono solo siciliani e italiani che comunque sono in maggioranza ma anche da altri paesi del bacino del Mediterraneo e anche i giudici che stanno giudicando e che fanno parte della giuria che io presiedo sono giudici che provengono da altre nazioni. è una mostra veramente importante che dà molto lustro al movimento ornitologico italiano a livello mondiale e a quello siciliano in particolare qui sono esposti ben 4.000 soggetti appartenenti a molteplici razze ogni razza poi ha la sua categoria la sua varietà e noi stiamo lavorando per determinare chi tra questi 4.000 soggetti sono i migliori alla fine della classifica oltre ai primi di ogni categoria uscirà il best in show di ogni razza esposta. Si possono ammirare tantissima varietà di canarini tantissime varietà di esotici indigeni pappagalli moltissimi pappagalli di qualsiasi colore bellezza tutti nati in cattività perché è giusto ricordare che noi tutti gli animali esposti sono nati in cattività quindi nati in gabbia e facciamo di tutto per divulgare questa cultura della cattività e combattiamo il braconaggio nel motto della Federazione Ornitologica Italiana noi abbiamo un motto molto molto semplice allevare e proteggere Con questo è tutto io vi ringrazio per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie.